Quando parliamo di prevenzione e quando parliamo di cura, noi tendiamo a considerare sempre una universalità puramente maschile. Lo dicono i dati. I trials clinici sono fatti tutti su uomini, ma gli uomini e le donne sono diversi e hanno reazioni diverse, non è solo un dato fisiologico pure evidente, ma penso ad esempio a tantissime patologie, in particolare le patologie cardiovascolari che interessano sempre di più le donne in misura crescente in una medicina che è sempre e solo maschile. Questo punto della salute di genere non è un punto di femminismo così improvvisato, ma è un'idea seria del valore salute. E il valore salute è esattamente come il mondo è fatto da uomini e donne e anche la prevenzione deve essere fatta su uomini e donne e la cura deve essere fatta su uomini e donne. Ma sa quanto risparmieremo? Risparmieremo tantissimo, anche perché oltre all'invecchiamento della popolazione, che è un dato, è un trend ovviamente, il che ovviamente porta ad un rischio maggiore di patologie cardiovascolari, c'è però il tema davvero della vita degli uomini e delle donne e delle difficoltà, delle esperienze e della reazione del corpo e della mente, perché voglio ricordare che la salute è salute fisica e psichica, secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. E sappiamo anche quanto la patologia, il disagio, la depressione incidano, peraltro, siano fattori non secondari di conduzione a patologie cardiovascolari. La persona va presa nella sua globalità, bisogna appunto curare la persona e non la malattia e basta, ma questa persona sono due persone, sono gli uomini e le donne. Questo è il grande salto culturale e scientifico, non solo di dibattito culturale, ma proprio scientifico, su cui la Commissione intende adoperarsi molto, molto, perché è arrivato il momento.